Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando del ponte sullo stretto di Messina, opera tanto cara al governo Meloni, soprattutto al ministro Salvini, ma è un'opera che continua a dividere e a far discutere. Secondo la CGL c'è il rischio che il ponte possa diventare una cattedrale nel deserto, ma è arrivata puntuale la replica della società stretto di Messina che assicura il ponte non sarà una incompiuta. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il ponte sullo stretto di Messina continua a dividere e far discutere. Sull'opera occorre accendere un faro perché rischiamo di costruire una cattedrale nel deserto, ha dichiarato Michele Azzola, coordinatore dell'area politiche industriali della CGL nazionale, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera nell'ambito dell'esame del decreto legge infrastrutture. Secondo Azzola, il provvedimento, in tema di ponte sullo stretto, introduce una procedura assai anomala che scardina il meccanismo che prevedeva la presentazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio, introducendo progetti esecutivi anche per fasi costruttive successive. Questo, ha commentato Azzola, non ha senso per un'opera unica. Andando per avanzamenti successivi abbiamo un sistema dei costi che salta completamente. La strada che si è introdotta è dunque altamente pericolosa sia per il tema delle finanze che per la realizzazione complessiva dell'opera. Anche per Irene Pata, della Will, il rischio è che i prezzi possano lievitare nel tempo rispetto a quelli prefissati e quindi indispensabile, ha detto intervenendo anche lei in audizione, una supervisione costante per evitare esplosioni incontrollate del costo dell'opera. Sulla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina c'è l'assoluta incertezza temporale sulla fase costruttiva e la paura dei territori e che i cantieri finiscano per rimanere lì come ecomostri e incompiute, ha invece affermato Giussi Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni. Non ci sono dubbi sulla certezza delle fasi costruttive del ponte sullo stretto né indeterminatezza sui costi, la replica dell'amministratore delegato della società stretto di Messina, Pietro Ciucci. Non c'è un rischio di incompiuta, il progetto è assolutamente fattibile ed è stato aggiornato nelle modalità previste per legge, ha assicurato Ciucci, commentando le dichiarazioni espresse nel corso delle audizioni in Commissione Ambiente della Camera sul decreto infrastrutture. Parliamo di calcio e del Palermo che prosegue la preparazione e il ritiro in vista della nuova stagione, intanto è arrivata una notizia importante, ovvero il rinnovo del contratto di Jacopo Segre fino al 2027. Segre è uno dei pilastri della squadra rosa nero, voglio arrivare in Serie A con questo club. Queste le dichiarazioni del giocatore in conferenza stampa, ma sentiamolo. Dopo una trattativa comunque lunga che è durata un po' di mesi, io non vedevo l'ora di firmare. È arrivato questo momento, sono grato e sono felice di aver sposato comunque questo progetto ed essermi legato a questa società e adesso devo ripagare ancora per l'ennesima volta la fiducia in campo. Sicuramente c'erano voci concrete, ma io non ho mai avuto dubbi sul firmare per questa società e non vedevo l'ora perché per me è un'occasione importante e voglio andare in Serie A con questa società, con questa maglia e per questa città perché se lo meritano e daremo tutto in campo per arrivarci. La mia forza è sempre stata l'umiltà, la voglia di esprimermi attraverso il gioco, attraverso i miei compagni, attraverso lo staff che mi dà indicazioni. Sicuramente nel calcio, ma come nel lavoro in generale, arrivano le occasioni e l'importante è farsi trovare pronti e questo è una delle mie forze, il lavoro, la determinazione e la passione che metto ogni giorno sul rettangolo verde e devo portarla avanti e trasmetterla a tutti i miei compagni. Parliamo adesso di edilizia e di un preciso report del Lance, ovvero l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. In Sicilia infatti si registra un calo dei livelli produttivi del 7,4%. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nel 2024 il settore delle costruzioni in Sicilia, parallelamente a quanto osservato a livello nazionale, risentirà del mancato apporto della manutenzione straordinaria a causa dello stop dell'accessione del credito e dello sconto in fattura. Lance, l'Associazione dei Costruttori, stima un calo dei livelli produttivi del 7,4% in termini reali su base annua. È quanto emerge dal report del Centro Studi Lance che ha presentato a Palermo gli scenari regionali dell'edilizia 2024 in collaborazione con la Società di Ricerca Prometeia. Per il settore il 2023 è stato invece un anno positivo con la crescita del 5,2% rispetto al 2022. Dai dati elaborati dalla Commissione Nazionale Paritetica per le casse edili risulta che nel 2023 l'aumento è stato dello 0,8% nel numero delle ore lavorate e dello 0,7% per quello dei lavoratori iscritti. Il 2023, dice il direttore del Centro Studi Lance, Flavio Monosilio, grazie al Superbonus e all'avvio dei lavori legati al PNRR, ha rappresentato un anno di conferma del buono stato di salute del settore. In soli tre anni gli investimenti in costruzioni in Sicilia sono tornati su livelli paragonabili a quelli del 2010. Per il 2024, invece, ha aggiunto il direttore del Centro Studi Lance, il quadro cambia. La nostra valutazione è di un indebolimento dell'attività produttiva. In questo contesto i principali nodi da sciogliere per il settore sono rappresentati dal PNRR e dall'accesso al credito. Parliamo adesso di turismo. A Giardini Naxos, Intesa San Paolo presenta le nuove misure per il settore turistico. Si parla di 10 miliardi di nuovo credito proprio per il turismo. 3 miliardi sono destinati al mezzogiorno. Vediamo il servizio. Intesa San Paolo presenta a Giardini Naxos, nel Messinese, le nuove misure dedicate allo sviluppo dell'industria turistica vitale per l'economia italiana e meridionale, per raffiancare la crescita delle imprese, del settore e cogliere le opportunità previste da PNRR e iniziative ministeriali. La prima banca italiana rinnova il proprio impegno per il turismo con 10 miliardi di euro di nuovo credito, di cui 3 miliardi destinati alle aziende del mezzogiorno, che si aggiungono a circa 9 miliardi di liquidità già erogati al comparto dal 2020. Questo nuovo intervento, a favore delle imprese turistiche, si inserisce tra le leve previste nel programma Il tuo futuro è la nostra impresa, della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, che destina 120 miliardi di euro fino al 2026 per gli investimenti delle aziende italiane e dedica un sostegno specifico al turismo e all'agribusiness, settori strategici per l'economia del paese. Come banca di riferimento dei principali settori del paese, ha affermato Barrese, rinnoviamo il nostro sostegno all'industria turistica, la cui crescita è determinante per rafforzare strutturalmente l'economia italiana. Secondo il rapporto di Intesa San Paolo, che fotografa il turismo al sud, nel 2024 si prevede nel mezzogiorno il pieno recupero delle presenze turistiche. Rispetto al 2019, il dato è stimato in crescita del 2,8% per un totale di quasi 89 milioni di notti trascorse. Proseguirà con forte intensità la ripresa della domanda internazionale, che si stima in crescita del 4,5% rispetto al 2023, superando pienamente il periodo pre-Covid 105,4% rispetto al valore del 2019. Il valore aggiunto è di 24,9 miliardi di euro, 24% del paese. Nel contesto europeo, il turismo meridionale è ben posizionato, ma con ampi margini di miglioramento. Cambiamo ancora argomento, abbiamo più volte parlato dell'importanza di un buon riposo. Ebbene, secondo una ricerca statunitense, tra i tanti fattori che possono disturbare e condizionare la durata del sonno, c'è anche la solitudine. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La solitudine disturba il sonno. È collegata a una durata inferiore del riposo notturno e anche a maggiori difficoltà di addormentamento. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Sleep Health, condotto presso la University of Wisconsin a Milwaukee. I ricercatori hanno intervistato 71 studenti universitari che hanno valutato il loro livello percepito di solitudine in quattro momenti del giorno per un periodo di due settimane. Durante questo periodo i partecipanti hanno indossato dispositivi di actigrafia che hanno misurato la durata e l'efficienza del sonno. Dallo studio è emerso che la solitudine quotidiana è legata a una peggiore qualità e quantità del sonno. I punteggi medi più alti di solitudine nell'arco della giornata erano correlati a un sonno più breve, 6,6 ore in media, a una qualità più scadente e a una maggiore stanchezza di urna. Punteggi di solitudine estremi in un dato giorno si associano alla necessità di un tempo più lungo per addormentarsi, 22,4 minuti in media la notte successiva e a livelli di stanchezza più elevati la mattina successiva. La solitudine colpisce milioni di giovani in tutto il mondo. Afferma Kaila Johnson, autrice principale dello studio. È fondamentale che ulteriori ricerche approfondiscano il rapporto tra solitudine e sonno in modo da poter elaborare interventi volti a migliorare la qualità del sonno tra i giovani adulti, conclude. Torniamo a parlare di sport. Dopo il calcio la palla a volo, dopo aver completato la rosa a disposizione di Mr. Placì, la Saturnia C Castello adesso lancia la campagna abbonamenti con tante sorprese. Noi siamo Saturnia. Con questo claim e la passione condivisa per la palla a volo, Coselile Saturnia C Castello lancia la sua campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025 per vivere insieme ai supporter i match del campionato di Serie A2 Credem Banca a partire dal prossimo ottobre. E si inizia dai vecchi abbonati, con la possibilità di usufruire del diritto di prelazione fino a domenica 14 luglio. Dal giorno dopo, ovvero lunedì 15 luglio, partirà la vendita libera per tutte le altre categorie di abbonamento. Quest'anno è un anno da vivere tutti insieme, per questo intanto abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri supporter storici di scegliere il loro posto per primi e poi abbiamo scelto delle tariffe accessibili a tutti con delle promo dedicate che riguardano le famiglie, gli studenti dell'Università di Catania, i tesserati Federvolley e i ragazzi e le ragazze innamorati come noi di questo sport, spiega il Presidente Luigi Pulvirenti. Sarà una stagione da non dimenticare, aggiunge il Presidente, abbiamo messo su una squadra altamente competitiva con giovani talenti che insieme a giocatori di grande esperienza daranno grande spettacolo al pala Catania. Nuove importanti misure invece dalla Regione siciliana per quanto riguarda il settore agricolo. La Regione sosterrà finanziariamente chi decide di avviare per la prima volta un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura nel territorio siciliano, comprese le isole minori. È stato pubblicato il bando del Dipartimento regionale dell'agricoltura rivolto ai nuovi imprenditori agricoli di età fra i 41 e 60 anni. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro a valere dei fondi del completamento per lo sviluppo rurale della Regione siciliana al piano strategico PAC 2023-2027. Il 2% della dotazione, pari a 400 mila euro, è riservato ad attività da avviare nelle isole minori. Supportiamo la nascita di nuove aziende in agricoltura che resta, ha dichiarato il Presidente della Regione, Renato Schifani, un comparto trainante della nostra economia. Il mio governo è quotidianamente impegnato a sostegno del settore, messo in forte difficoltà dagli effetti della persistente siccità. Questo bando, ha aggiunto il governatore, dimostra la fiducia in un futuro di sviluppo. È una misura che ha significativi risvolti sociali, sosteniamo le iniziative di soggetti non più giovani ma che abbiano ancora voglia di scommettere su se stessi e sulla nostra terra e investiamo negli arcipelaghi siciliani, prevedendo di destinare specificatamente una quota dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali che vi saranno realizzati. L'intervento offre opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori nel settore agricolo e attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi sostenibili sia in termini di ambiente che in termini economici e sociali. occorrerà presentare con la domanda un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. Sono favorite le fasi iniziali di insediamento tra cui l'acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. Il sostegno è erogato con il pagamento di una somma forfettaria in conto capitale di 30.000 euro. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.